salve ho assemblato ho costruito un lettore compadisc utilizzando un lettore cd rom da computer il case eccolo qui è alto appena solo 4 cm e ora l'accensione è questa qui si preme qui lo apriamo vediamo all'interno come l'ho assemblato utilizzando un cd rom ho utilizzato un asus questo è il circuito su una basetta mille fori diciamo ammucchiato un po tutti i componenti le varie alimentazioni ecco qui un trasformatore il circuito che gestisce cd rom l'ho acquistato su ebay da un sito cinese i tastini sono illuminati così riperiti un po in giro apriamo il cassetto inseriamo il cd audio vediamo un po il risultato di come si sente anzi mi aspetto un vostro giudizio imparire anche c'è anche il telecomando il segnale l'ho fatto uscire dal lettore in digitale l'ho mandato un daft sempre che ho costruito che devo ancora finire di attemplare grazie a tutti 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 аю Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.